In diretta dall'Oreo Center, va ora in onda, tutto sotto. Ciao a tutti, siamo qui un'altra volta per parlare di buono immarcato pallavolo femminile. Siamo qui per parlare di tante cose. Allora, la Foppa, la Gennari è andata a Busto, la Vareni è andata a Minas, è ufficiale. Mentre per quanto riguarda la Guigiano e lo Bianco, fino al Milino di Casal Maggiore, non si sa ancora nulla. Nel Milino c'è Malinov. Una giocatrice che gioca a Conegliano. Barbolini è nuova da Torinovara, Sara Berti va a Firenze, la Calloni va a Modena, la Barun va a Modena, la Giulia Leonardo ha rinnovato un'altra stagione a Modena, la Betis e la Bonciani rimangono a Bisonte. La Mori va a Beziberg in Francia, mentre il 90% se si scrive la Foppa avrà un nuovo allenatore, il signor Salvani. Dalla Turchia va a Conegliano. Innanzitutto, nei prossimi giorni sapremo di più il futuro della Foppa. Abbiamo visto martedì sul Lecco di Bergamo, io non aggiungo altro, ci vediamo alla prossima puntata. Vi auguro tutti una buona continuazione. Grazie. 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 Grazie.